Salve a tutti ragazzi e bentornati, siamo qui sul mio canale, io sono Digic e oggi per come potete vedere dal titolo vi mostrerò un glitch per far vedere l'area con expert per chi che non la vede nello shop quindi se non lo avete ancora fatto io ti invito soprattutto di iscriverti al canale se non lo avete ancora fatto, seguirmi su Instagram se soprattutto non ti funziona hai problemi per quanto riguarda questo metodo, questo glitch, non so come chiamarlo comunque non fate caso ai capelli, non fate caso alla mia voce mi sono appena svegliato per registrare questo video e farvelo uscire entro mezzogiorno spero che si riesca entro mezzogiorno, mezzogiorno e mezza in modo tale da farvi avere questa notizia per avere questa skin nello shop per avere appunto questa skin nello shop e potervela prendere perché se la vuole prendere in alternativa sappiate che stasera alle 22 se questa skin ci sarà ancora ci sarà un possibile contest per questa skin ovviamente se internet questa sera permette perché io non l'ho fatta per questo motivo però adesso andiamo in giù che vi faccio vedere il metodo per far vedere intanto la skin nello shop perché che non la vede e soprattutto analizziamo intanto la schermata perché di solito quando è che torna una skin ti spunta qui nelle notizie ma qui non c'è, quindi Epic cosa stai combinando? se andiamo su, vabbè armadietto io non ce l'ho la skin quindi è inutile che dite vabbè falla vedere nell'armadietto, fatta vedere l'altro giorno in un altro video nell'altro account se andiamo su un negozio oggetti ed eccola qui, è di nuovo qui cioè prima apparizione stagione 1 molti molto probabilmente non vedranno questa skin ma non so realmente il motivo per capire perché però fatto sta che la skin è di nuovo nello shop è lo shop delle due cioè l'ultimo che avevo visto prima di chiudere Fortnite praticamente non era assolutamente questo era tutt'altra cosa, c'era tutt'altro shop praticamente e le mie ipotesi sono o la Epic ha sbagliato a lanciare lo shop alle 2 e quindi poi l'ha corretto nelle ore successive quando è che ognuno è andato a dormire ovviamente qui nelle nostre zone o semplicemente, oppure non lo so in ogni caso se siete così tanto impazienti da aspettare il conto se volete shoppare questa skin vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore che appunto è 10GYT confermate e fatemela vedere su Instagram se l'avete soprattutto presa adesso vi andrò a spiegare ovviamente come ottenerla per chi che non la vede in pratica i passaggi sono semplici si deve semplicemente riavviare il gioco in poche parole il glitch consiste nel mettere la lingua inglese e riavviare il gioco più volte in modo tale da glitchare in questo caso il server e vedere la skin nello shop o in alternativa mettere la lingua inglese e cambiare il server in questo caso da Europa a mettere che so America America tentare in vari modi e tentare comunque in questi modi detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile iscrivetevi al canale se siete nuovi seguitemi su Instagram soprattutto che è fondamentale perché dobbiamo fare i numeri anche su Instagram che è giusto che sia così ovviamente vi invito anche a supportarmi nel negozio città con il mio codice creatore soprattutto se ci occupate la skinner con Expert fatemela vedere su Instagram detto questo e direi che per questo video è tutto e noi ci rivediamo qui come sempre con un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.